Allora, è un avversario di qualità, sapevamo che era una partita comunque difficile, su un campo difficile ed è stato lì. Però ha visto che dice che entrante gli ha dato complimenti per la ripiena, ha visto una stazione molto molto diversa da quella di Roma. Su questo non c'è dubbio, penso che anche i tifosi l'abbiano riconosciuto. In campo c'è stata una squadra che ha lottato dal primo minuto, con umiltà, su un campo difficile, perché ripeto c'è da riconoscere anche il valore dell'avversario. È un punto guadagnato, perché le prestazioni così portano lontano. Dopo il pareggio di Roma, sinceramente, il clima era diverso e doveva essere diverso, perché la prestazione era stata sotto tono. Invece oggi la squadra dimostrata che è viva, che voleva tutti i costi di risultato, che probabilmente mette avanti la vittoria. Perché anche se è stata una partita equilibrata, penso che le palle gol che abbiamo avuto noi siano state maggiori rispetto a quelle della Gianna. Però ci prendiamo questo punto e pensiamo già alla prossima in casa. Non mi dà fastidio vedere la Cremonese, che sarà meno uno. Sappiamo che dietro abbiamo una signora squadra e ogni mezzo passo falso nostro, loro possono guadagnare terreno. Stanno facendo un grandissimo campionato anche loro. Probabilmente ora, finora si è parlato meno della Cremonese perché le avevamo vinte tutte, ma noi siamo i primi a sapere che ci sarà da lottare fino all'ultimo minuto di prima giornata. Quindi noi dobbiamo guardare in casa nostra, con queste prestazioni andiamo lontano. Poi, insomma, quando noi abbiamo questo spirito di gruppo, cremonese o non cremonese, noi abbiamo avuto tutto. Dobbiamo arrivare al 7 maggio senza rimpianti e sperare di essere là su di cima. Grazie.